Se è vero che in Abruzzo alle ultime elezioni europee ed amministrative del 26 maggio a trionfare è stata la Lega e anche acclarato il successo e la crescita di Fratelli d'Italia che ha contribuito alla vittoria del centrodestra sia a Pescara che a Montesilvano e a Città Sant'Angelo. Al neosindaco di Pescara Carlo Masci arriva l'indicazione da parte degli esponenti del partito di Giorgio Meloni in primis dal capogruppo in consiglio regionale Guerino Testa di valutare nella composizione della nuova giunta comunale la presenza di due assessori di Fratelli d'Italia. I due papabili sono Alfredo Cremonese e Fabrizio Rapposelli che sono i più votati tra i tre consiglieri eletti. Le idee sono molto chiare su quello che dovrà avvenire nel mondo del commercio, nel mondo del turismo, su tutto il comparto mare e sulla sicurezza. Noi riteniamo che su queste quattro voci, senza ovviamente tralasciare il sociale e tante altre cose, l'amministrazione di centrodestra dovrà dare risposte concrete perché Pescara dovrà tornare ad essere più bella, più accogliente, una città dove si vuole andare non solo a vivere ma si vuole andare per fare turismo, per fare giorni di mare, per trasferirsi dal mare alla montagna in poco tempo e quindi offrire un pacchetto turistico e commerciale con grande appilla. A Montesilvano, ha evidenziato il capogruppo Testa, il neosindaco Ottavio De Martini, vice sindaco uscente, saprà certamente portare avanti i progetti già avviati dall'amministrazione guidata dal sindaco Francesco Maragno che ha ben operato negli ultimi cinque anni, mentre a Città Sant'Angelo la vittoria del sindaco Matteo Perazzetti di Fratelli d'Italia e la cartina torna sole del successo ottenuto in provincia di Pescara dal centrodestra con il contributo fattivo del nostro partito.